La sesta edizione di Dialogando insieme per la pace prenderà il via domani 2 ottobre. Il primo incontro, previsto alla Sala Buzzi domani sera alle 20.30, tratterà di Islamofobia, argomento sicuramente attuale che sarà sullo sfondo dei nove incontri organizzati dal 2 ottobre al 12 dicembre. Il Centro di Cultura e di Studi Islamici della Romagna ha scelto quest'anno di intitolare il ciclo di incontri Dialogo, solidarietà e accoglienza tra informazione e disinformazione. È una scelta perché viviamo in una società che ormai è basata sull'informazione. Tutto quanto viene deciso, il pensiero della gente in comune, il pensiero nostro stesso. Quindi stiamo vivendo in un mondo avanzato tecnologicamente che le informazioni, se sono quelle vere e quelle giuste, si ottengono dei risultati positivi e si va sulla buona strada. Se invece c'è una disinformazione in certi settori o certe tematiche, ci possono essere delle conseguenze nel tessuto sociale, quindi dove apparteniamo anche noi. Per quello che abbiamo avuto piacere quest'anno in collaborazione con i nostri amici focolari, di trattare questa tematica e di sensibilizzare un attimo, diciamo, di aprirgli occhi alla gente sulle informazioni che ci arrivano. A livello, diciamo, religioso, a noi come musulmani ci si ordina proprio che c'è un versetto nel Corano, dice quando vi arriva un'informazione, esaminatela per bene, affinché non fate il danno o il torto a qualche d'uno, non volendo, diciamo. Quindi l'informazione è cosa fondamentale nella società di oggi, direi. Secondo lei la cultura musulmana, l'Islam, soffre di questa cattiva informazione? Direi assolutamente sì, perché non si può strappare, per esempio, una frase del Libro Sacro e prendere delle informazioni di una frase solo. Quindi ho visto anche qualche sera fa un bellissimo intervista che hanno fatto le Iene, per esempio, su Italia 1. Però c'è da dire che bisogna andare sul posto e capire veramente tutto quanto, perché dire l'Islam a livello mondiale è una cosa impossibile, nel senso che ogni posto ha la sua realtà, le sue tradizioni, la sua cultura, la sua mentalità. Quindi bisogna analizzare su ogni luogo le cose per conto proprio, diciamo. Quindi noi che viviamo nell'Occidente, l'Islam ha assolutamente una piena convivenza e problematiche li affrontiamo sicuramente sull'informazione, perché veramente è un mondo dove è molto scombinato come informazione, perché parte un'informazione dall'Oriente e finché arriva qui viene capita in diverso modo, ma anche sulla base dell'Islam stesso ingiusta, cioè nel senso inaccettabile. Poi su quello che personalmente sento e vedo spesso legato, tipo titoli l'Isis, l'Islam, musulmani, cioè sono dei mercenari, sono della gente che praticamente non... Io personalmente non me la sento, non ho mai sentito con la nostra comunità legata sull'Islam o su dei musulmani, perché è gente che non rispetta il regolamento dell'Islam, che è assolutamente pacifico. Dialogo, solidarietà e accoglienza sono gli altri temi di questa serie di incontri appunto organizzati dal Centro Islamico, anche appunto in collaborazione con i focolari. Qual è il vostro punto di vista e in che maniera quindi affrontate questo tema in occasione di queste giornate? Allora, noi abbiamo conosciuto i nostri amici musulmani fin dal 2008 e di lì è cominciata questa collaborazione. La collaborazione è continuata, ha progredito. L'anno scorso ottobre abbiamo deciso insieme di programmare quest'anno queste iniziative. Lo facciamo perché vogliamo dare un valore alla persona, relazionarsi, perché vedo che, o vediamo, ecco che lo dobbiamo per i nostri figli, per i nostri nipoti. Non possiamo far finta di niente. Sono in mezzo a noi e con loro vogliamo vivere in pace, dialogando e sempre. Nove incontri appunto dai primi di ottobre fino a quasi la metà di dicembre. Gli argomenti sono tanti. Noi abbiamo entrato, iniziamo il 2 ottobre con l'apertura e la presentazione di questo libro che è della nostra editrice Città Nuova, che è del Movimento dei Focolari e questo ci dà l'opportunità di dialogare con loro perché sono 15 autori, sia cristiani, cattolici che musulmani, che scrivono sui rapporti tra di noi e con gli altri anche, non solo per questo. Poi interveniamo in un secondo incontro con il microcredito e l'economia di comunione, un filone che all'interno del Movimento dei Focolari è seguito, è una economia nuova. Poi ancora un altro incontro col dialogo cristiano-musulmano, dove ci saranno due esperti, un iman che conosciamo bene e un nostro focolarino competente nel dialogo interreligioso. Un appuntamento molto importante per la comunità ravennate e anche per la comunità musulmana è quello di domenica. Sì, il 4 di ottobre e questa domenica praticamente è una giornata, si potrà dire che possiamo moltiplicarla più di una giornata, e quindi capita il giorno per la pace, poi capita due anni della moschea e poi abbiamo, diciamo così, un compleanno di 20 anni del centro da quando è stato costituito e che sta lavorando su vari progetti sul territorio. Il risultato di oggi è anche, si può dire, la costruzione del centro. Adesso, finita la costruzione, ci stiamo attivando sempre di più nella città e nella società per poter dare un contributo tutti insieme.